ecco il campione vi vedo tutti nello specchietto retrovisore atterriamo la prima vittima deve essere mia ricevuto ecco il campione Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Ehi, guarda, mi stanno sentendo. Carico il sud. Soveglio questa posizione. Sta sistemando un portaggio. Mi stanno sparando. Impostato il portaggio. Controllo quest'area. Ricarica scudine. Mi sto curando. Siamo già nell'area. Si divertiremo. Scudi danneggati. Una notizia. Però voglio qui. Di chiuderò la bocca per sempre. Sono male. Mi traccia la differenza in arrivo. Uso un kit medico. Vi chiuderò la bocca per sempre. Siamo nell'area. Qui c'è un Krabber. Adesso i nemici verranno in verso di noi. Qui c'è un Krabber. Contatto con bersaglio. Apri il fuoco. Sto stabilendo un contatto con il nemico. Fuori uno. Sei un nemico qui. Ho ucciso. Qualcuno vuole proprio... Ricarico gli scudi. Servono degli scudi. Un'altra squadra ha già saccheggiato quella zona. 45 secondi. L'anello è vicino. Qui c'è una capsula assistenza. Qui c'è un Kskipper. Qui c'è un Kskipper. Non è solo. Qui c'è un Kskipper. Corri. Ricarico gli scudi. Chi ti è un Kskipper. E' un Kskipper. Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.